Nell'esercizio di questo video si chiede di dire se le seguenti due funzioni sono funzioni olomorfe sul campo di numeri complessi. La prima funzione è definita da f di z uguale a z alla decima, mentre la seconda funzione è definita da f di z uguale a modulo di z. Iniziamo dunque dalla prima, abbiamo f di z uguale a z alla decima. È ovviamente una funzione olomorfa perché è una funzione olomorfa perché è il prodotto di funzioni olomorfe z alla decima, possiamo vederlo come z per z per z moltiplicato per se stesso dieci volte. Siccome f di z uguale a z è una funzione olomorfa, allora z alla decima sarà olomorfa. Quindi è olomorfa perché è il prodotto di funzioni olomorfe. La seconda funzione invece è un pochino più problematica, quindi abbiamo f di z uguale a modulo di z. Vi ricordo, mettiamo come nota, che poiché z è un numero complesso, z si potrà scrivere come parte reale più i volte parte immaginaria, x più i, y e quindi f calcolata in z, sarà quindi f calcolata in x più i volte y, si potrà scrivere come, se possiamo separare la parte reale dalla parte immaginaria, quindi una certa funzione u di x, y, che è la parte reale più i volte v di x, y. e sappiamo dalla teoria che f è olomorfa se e soltanto se u e v risolvono le equazioni di Cauchy-Riemann, che abbreverò con ch, e sono differenziabili quasi ovunque. Concentriamoci ora sull'equazione di Cauchy-Riemann, vediamo se effettivamente u e v nel nostro caso risolvono tali equazioni. Allora vi ricordo che le equazioni di Cauchy-Riemann sono le seguenti. quindi deve essere la derivata rispetto a x di u uguale alla derivata rispetto a y di v, mentre la derivata rispetto a y di u deve essere uguale a meno volte la derivata rispetto a x di v. Allora, nel nostro caso abbiamo f di z, quindi f di x più i y uguale a modulo di z, quindi modulo di x più i y. il modulo come è definito come la radice quadrata delle componenti, quindi è allevata al quadrato, quindi x alla seconda più y alla seconda. E quindi, se vogliamo scriverlo come u di xy più i volte v di xy, come potete osservare la nostra funzione prende soltanto valori reali, perché la radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda, x alla seconda è un numero reale, y, oppure la radice quadrata ancora sarà un numero reale, perché la somma di due quadrati è una quantità positiva. E quindi abbiamo che dovrà essere u di xy uguale a tutto questo, mentre v di xy uguale a zero. Quindi nel nostro caso, u di xy uguale a zero, u di xy uguale a radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda. Risolvono le cosci Riemann? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo. La risposta è no, perché? Perché abbiamo che dovrebbe essere la derivata rispetto a x di u uguale alla derivata rispetto a y di v, ma y è la funzione nulla, per cui quando deriviamo rispetto a y otteniamo comunque zero. Stessa cosa, la derivata rispetto a y di u deve essere zero, perché deve essere uguale a meno la derivata rispetto a x di v, ma la derivata rispetto a x di v è la derivata rispetto a x di zero, che quindi è zero. Quindi, questo cosa ci sta dicendo? La prima equazione ci dice che u non dipende da x, quindi u è uguale, diciamo, u di xy, la nostra funzione u, non dipende da x, quindi sarà uguale a una certa funzione che dipende solo da y. E la seconda equazione ci sta dicendo che la derivata rispetto a y di u, che quindi sarebbe g' di y alla derivata di g, deve essere uguale a zero. Ovvero, questo succede se soltanto se g di y è una costante c. Ma allora u di xy era uguale proprio a g di y e quindi tutto questo deve essere una costante c. Quindi, con v uguale a zero, u risolve le cosci di Riemann se soltanto se è costante. Ma la nostra u non è una costante, è radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda, quindi poiché u di xy non è costante, le equazioni di Cauchy Riemann non sono risolte. ma le equazioni di Cauchy Riemann erano una condizione necessaria per l'essere olomorfa, quindi l'essere derivato in tutto il piano complesso. E quindi l'unica conclusione possibile è che f di z uguale a modulo di z non è una funzione olomorfa. e con questo abbiamo concluso il nostro esercizio.